Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini in questa formula che abbiamo adottato quest'anno che prevede un'ospita puntata l'ospite di oggi è Marta Mancini, presidentessa dell'ente concerti di Pesaro alla quale diamo il benvenuto, buongiorno e benvenuta Marta Grazie, grazie, sono molto contenta di essere qui e di parlare dell'istituzione per cui io lavoro da sempre Bene Sono entrata nel consiglio dell'ente concerti nel lontano 1988 sono stata consigliera, vicepresidente Adesso mi trovo a gestire questo ente che ha una sua storia e delle notizie particolari da far conoscere al nostro pubblico Allora raccontiamolo un po' questa storia perché io sono andato, come faccio spesso, ci siamo prima sentiti un po' al telefono poi sono andato anche un po' a sbirciare, a confrontare e dal sito dell'ente concerti si rilevano due date un 1961 come data ufficiale di nascita diciamo e però un 1920 per quanto riguarda le società dei concerti pesaresi da cui l'ente concerti ha poi preso eredità e fatto partire un nuovo corso Sono esatte, sono giuste queste date? C'è qualcosa da modificare, da aggiornare, da adeguare oppure ci adeguiamo a queste? Sono date giuste, il 1961 è la data che dà l'avvio al nuovo statuto dell'ente concerti e quindi si veniva da una crisi, c'era stato un problema, il pubblico era diminuito e poi si è risollevato era allora direttore del conservatorio Marcello Abbado e ha pensato di avvalersi della collaborazione una volta era il direttore stesso del conservatorio che gestiva l'ente concerti a Pesaro, quella che oggi si chiama l'ente concerti ma siccome la situazione era difficile dal punto di vista anche finanziario e gestionale allora ha pensato di attribuire a Pari De Maione il compito di risollevare, di gestire questo ente e così è stato cambiato lo statuto, sono mesi dei paletti molto buoni affinché pervenissero all'istituzione pesarese finanziamenti e una certa possibilità di lavorare, di espandere la propria attività e così possiamo dire che l'ente concerti con la fisionomia attuale trae origine da questa data però a Pesaro da quando è nato il conservatorio nel 1882 i concerti sono sempre stati fatti al massimo livello con i grandi direttori del passato, Carlo Pedrotti, sappiamo tutti, Pietro Mascagni soprattutto Amilcare Zanella che ha concentrato a Pesaro tanti artisti nel 1920 c'era appunto una società che si chiamava Amici della Musica a Pesaro gestita appunto da Zanella e sono venuti dei grandissimi, anche i miei ciortoschi, i grandi pianisti e Rudolf Irkusny che è venuto tante volte e poi qualche anno dopo devo dire che l'ente concerti e queste società precedenti hanno avuto sempre situazioni alterne ora andavano per la maggiore, ora invece concentravano le loro risorse al minimo e allora spesso venivano cambiate le politiche, venivano cambiati gli interlocutori e gli statuti c'è stata la società dei concerti che è apparso in turno al 40 che ha avuto un ex qua notevole, anche questa proveniva da una crisi è stato a Pesaro il grandissimo Dinuli Patti il grandissimo Arturo Benedetti Michelangeli André Segovia devo ricordare anche che Maurizio Pollini era allora appena diciottenne è venuto a fare un concerto a Pesaro chiamato appunto dalla nostra società dei concerti ed ha proposto al pubblico delle musiche chopiniane lui era un grande esperto di Chopin, aveva appena 18 anni e di lì a poco, dopo due mesi, dopo pochissimi mesi si è presentato al concorso Chopin di Varsavia ha vinto il primo premio ha avuto il lancio in tutto il mondo è diventato uno dei grandi pianisti, delle superstar a livello mondiale quindi Pesaro ha sempre avuto il ruolo di scopritore di talenti ha avuto sempre con la conoscenza musicale che c'è sempre stata e con l'interesse di catalizzare su Pesaro la conoscenza e la produzione ha sempre avuto questo ruolo di promozione dei grandi interpreti è un incanto sentire, pronunciare questi nomi così importanti e tra l'altro sono certo conosciuti anche dai meno attenti e dai meno vicini al mondo della musica perché sono nomi che hanno occupato le cronache, i telegiornali e nell'immaginario insomma più o meno quasi tutti i nomi che sono stati pronunciati fino adesso sono nomi che travalicano il mondo il perimetro del mondo della musica insomma sono nomi importanti sapere e scoprire per alcuni, come per me, dico la verità che insomma c'è un passaggio a Pesaro e un passaggio anche così importante di questi personaggi non può che inorgoglirci a questo punto però ci domandiamo una cosa Pesaro è sempre stata, è questo breve discorso, testimonia una città nella quale la musica ha avuto una parte importante anche oggi città creativa dell'UNESCO per la musica e insomma diciamo che ce n'è il Conservatorio, il Rossini Opera Festival allora a questo punto per far capire un po' meglio anche ai nostri telespettatori più appassionati ma magari non troppo attenti a vezzi esattamente, l'ente concerti di che cosa si occupa? Qual è il suo ruolo in una città dove appunto abbiamo detto la musica è così presente? L'ente concerti si occupa di produzione musicale a tutto tondo adesso i tempi sono cambiati ci sono sempre i grandi interpreti non a caso abbiamo avuto pochi mesi fa Ivo Pogorelic che è un grandissimo con cui ha aperto appunto la stagione dell'anno precedente quindi stiamo molto attenti a quello che succede nel mondo e a promuovere i grandi interpreti ma soprattutto vogliamo capire qual è l'orientamento e il gusto che la musica prende in questo momento per cui c'è uno spazio importantissimo riservato alle esperienze proprio del nostro tempo noi dobbiamo ringraziare il Comune di Pesaro che ci mette a disposizione spazi importantissimi dove appunto si può agevolmente organizzare ogni tipo di evento quest'estate abbiamo avuto il Parco Miralfiore ci sono stati cinque eventi che sono piaciuti moltissimo al pubblico giovanile con performance di artisti del nostro tempo c'era la cantante Tosca che ha una voce eccezionale non sicuramente di canto lirico però è interprete del gusto e della possibilità vocale dei nostri tempi c'è stata Karima c'è stato il grande attore Tirabassi il quale ha reinterpretato la vita di Django Reinhardt il famoso chitarrista del primo novecento chitarrista con una vita molto particolare era Rom e quindi si è fatto strada da solo con le sue forze diventato una vera e propria star abbiamo avuto il gruppo pesarese di Matthew Lee che tu sicuramente conosci bene che con il suo rock ha sconvolto la platea stiamo molto attenti a quello che succede abbiamo anche, guardiamo il jazz spesso e molto volentieri viene da noi Fabrizio Bosso con la sua band è venuto anche a fare altri concerti non solo nei nostri teatri e al Miralfiore ma anche in provincia ad Urbania ha un pubblico di seguaci molto eterogeneo ecco abbiamo anche questa possibilità di richiamare l'attenzione sia del pubblico tradizionale ma anche di far scoprire nuovi talenti al pubblico giovane che partecipa e veniamo incontro in tutti i modi a che i nostri concerti siano frequentati da tutti mettendo anche biglietti disponibili così molto accessibili a qualsiasi livello sociale e così possiamo dire che il cliente concerti per rispondere alla mia domanda si occupa di concerti e li produce, li intercetta anche dal panorama dei tour nazionali e internazionali oppure li può produrre in prima persona senza nessun limite o perlomeno senza limiti particolari se non quello della grande qualità per quanto riguarda il genere della musica e questo credo che sia una cosa che è bello sottolineare perché forse non è nota a tutti insomma desidererei dire un'ultima cosa noi stiamo molto attenti a che siccome è molto difficile trovare degli sbocchi professionali con la musica siamo molto attenti a che i giovanissimi che sono talvolta dei talenti incredibili possano trovare uno spazio nelle nostre attività musicali per questo abbiamo fatto quest'estate la musica nei cortili sia a Pesaro che in Urbino proponendo collegandoci con il conservatorio dove effettivamente c'è una fucina di risorse e allora abbiamo con programmi eterogenei con giovani artisti diversi abbiamo cercato di di far lavorare loro e di far conoscere con la nostra pubblicità che riusciamo a fare i loro repertori e la loro vocalità oppure la loro bravura nell'eseguire i brani sia classici che moderni che rock eccetera e quindi fa piacere e credo la migliore interpretazione concreta che si possa dare al concetto di città della musica secondo me io spero di sì l'ente concetto è contribuito a questo titolo devo dire anche il mio predecessore ha lavorato tanto che si raggiungesse questa visibilità e questa importanza nel mondo certo immagino che guarderete con molta attenzione non solo al termine dei lavori del Teatro Rossini che verrà restituito fra qualche mese un po' più di qualche mese con l'aggiunta della nuova Sala della Repubblica che diventerà comunque uno spazio anche molto più fruibile di quello che era ma anche al prossimo auditorium dove c'era l'ex Palazzetto dello Sport di Viale Marconi sono due riferimenti credo preziosissimi per la città sarebbe un'ottima risorsa poter disporre di questi spazi le nostre scelte andranno in questa direzione anche prevedendo la risposta del pubblico essendo il Palazzetto dello Sport grande quindi con la possibilità di ospitare moltissimo pubblico cercheremo di fare delle cose di altissimo livello certo i giovani pesaresi e anche comunque che studiano a Pesaro come reagiscono a questa possibilità aderiscono ci stanno si fanno avanti loro li cercate voi come funziona? poi li cerchiamo noi li cerchiamo noi cerchiamo di promuovere i nostri cartelloni le nostre stagioni anche nelle scuole cerchiamo di metterci in contatto con le altre istituzioni speriamo che ci diamo da fare al massimo dal vostro punto di vista c'è un bel movimento anche dal punto di vista qualitativo dei nostri giovani? come pubblico? no no come esecutori come esecutori io penso di sì lavoreremo ancora molto in questa direzione devo dire che noi siamo collocati soprattutto nel rispetto della musica classica quindi questo è il nostro obiettivo primario dove c'è un mondo incredibilmente importante stiamo attenti a quello che succede ai giorni nostri poi vediamo se anche la risposta del pubblico determina un po' le nostre scelte certo certo e quindi ma sicuramente è importante questo cercare di capire quali sono le iniziative che avranno un'accoglienza migliore i prossimi programmi i prossimi concerti in calendario ma anche i programmi in proiezione dell'ente concerti quali sono? dunque intanto finiamo la stagione con musica da camera abbiamo prodotto molto musica da camera quest'anno anche perché non abbiamo disponibile il teatro Rossini con uno spazio adeguato è il palco dello sperimentale l'unico teatro disponibile è piuttosto ristretto e quindi ci sarà un violinista molto importante Brodsky accompagnato dal pianoforte che eseguirà Rachmaninoff ed altri brani e poi ci sarà un trio e per l'anno prossimo e per la seconda tranche della stagione che partirà da gennaio io non voglio anticipare niente perché ci sarà una conferenza stampa però avremo dei grandi artisti allora diciamo che richiamiamo l'attenzione sulla conferenza stampa nella quale verrà dato un grande risalto alla prossima stagione dalla quale dobbiamo aspettarci cose grosse insomma questo è questo è questo è quello che possiamo fare in questo momento l'unico spazio fruibile è effettivamente il teatro sperimentale perché anche il Pedrotti è il Pedrotti è chiuso da tantissimi anni il Pedrotti è una sala a Pesaro che esiste inaugurata nel 1907 costruita aveva una gestione molto lunga dai tempi di Carlo Pedrotti ed è acusticamente fortunatissima perché felicissima perché non ci sono code sonore era Pedrotti stesso grande musicista dall'orecchie raffinato che con i tecnici del suono andava lì nella sala a controllare che non ci fossero code sonore per cui è venuto fuori un auditorium perfetto e adesso è chiuso per ragioni di sicurezza perché non è a norma e appartiene al Conservatorio e alla Fondazione Rossini ma mi auguro che possa essere restituito alla città e che possa essere utilizzato veramente come salone da concerti perché è uno spazio importantissimo dal punto di vista acustico ed è ricercato anche perché c'è stato un passato lì ci ha suonato Arturo Benedetti Michelangeli cioè ha avuto Clara Aschil dei grandissimi interpreti quindi dobbiamo continuare noi questa tradizione di portare i grandi nomi una delle ultime esecuzioni molto più piccolo di quello di cui stiamo parlando è stato il concerto che è stato realizzato sulle poesie di mio padre Carlo ah sì sì sul Soundfield Deluxe realizzato con le musiche dell'allora maestro di composizione e oggi direttore Fabio Masini il maestro Fabio Masini che ha composto le musiche è stata una delle ultime esecuzioni che sono state fatte all'interno del Pedrotti sicuramente e lì si era avuto modo insomma di notare questa cosa anche per il grande pubblico che magari non era abituato e che in quell'occasione magari era stato richiamato dall'idea di questa novità assoluta del dialetto di questa cosa un po' particolare sicuramente avranno tutti notato questa cosa dell'acustica perfetta perché in effetti era il vanto è il punto chiave ma la situazione della norma del mettere la norma è un discorso di costi e basta di solito non è tecnologia questo non dipende da noi no è chiaro è chiaro ma è una riflessione c'è la solita diatriba e della fondazione del conservatorio questa è una diatriba che va avanti io mi ricordo dagli anni 70 ho lavorato lì per circa 42 anni perché prima lavoravo era un docente bibliotecario io sono stata e quindi loro che gestiranno questo spazio cercheranno di risolvere i vari problemi che ci sono e quindi aspetto a loro quello che mi auguro è che il comune metta a posto presto il teatro Rossini che per noi è il luogo fondamentale e soprattutto questo palazzetto dello sport che sarà una risorsa preziosissima sì anche perché quello nasce proprio come auditorium non sarà più un palazzetto adibibile anche a musica ma sarà al contrario un auditorium adibibile anche ad altre attività per cui diciamo le premesse sulla carta perché sia il luogo ottimale ideale ci sono tutte insomma speriamo che l'attesa verrà ricompensata da una grande utilizzazione e una grande possibilità di utilizzo di quello spazio ce lo auguriamo tutti sicuramente speriamo speriamo e che i tempi siano brevi visto che i lavori si protraggono fino a troppo tempo purtroppo quando si si mettono in mano poi le fasi nel doverle fare credo che più che dar l'impegno insomma diventa difficile perché io i tempi tecnici dei muratori degli installatori eccetera non sono in grado di conoscerli ma vedo sempre che ci vuole un sacco di tempo e poi le interruzioni finiscono i fondi e dopo lì c'è la burocrazia con l'occhio delle norme delle regole di sicurezza c'è dentro di tutto per cui speriamo che tutto venga superato al più presto in tempi brevi allora comunque mi par di aver rilevato una bella emozione una grande comunque euforia ed energia in Marta Mancini presidentessa dell'ente concerti in questa chiacchierata che adesso stiamo concludendo quello che ci piaceva far emergere era comunque questa realtà cittadina ma anche questo ruolo di presidente che viene ricoperto da questa persona così appassionata ci è piaciuto molto perlomeno sono sicuro che sia arrivato anche a casa dei nostri telespettatori grazie grazie sono delle belle parole che ci riempiono di gioia speriamo di decollare sempre più in alto di arrivare sempre più in alto con le nostre scelte con i nostri programmi c'è qualcosa che possiamo dire ai nostri telespettatori come consiglio per stare vicini alle ente concerti c'è un modo non so c'è il modo di scriversi come sostenitori delle ente concerti c'è qualcosa di simile sicuramente adesso abbiamo rinnovato proprio questi giorni il sito delle ente concerti possiamo comunicare benissimo possiamo conoscerci tutti anzi dobbiamo farlo perché noi investiamo molte risorse sia finanziarie che intellettuali e quindi l'obiettivo è proprio questo di allargare il pubblico e di farci conoscere bene abbiamo provato a dare anche il nostro piccolo contributo noi di Rossini TV speriamo di esserci in qualche modo riusciti a mettere un piccolo tassello a questa storia così lunga e che naturalmente deve continuare ad andare avanti ancora di più in una città come la nostra nella quale si respira musica e questo è l'aria di tutti i giorni grazie ancora ci siamo arrivati alla conclusione per cui ringraziamo anche i nostri telespettatori per aver seguito questa puntata di Casa Rossini dandovi appuntamento a una nuova puntata ringraziamo ancora Marta Mancini per essere stata con noi grazie Marta grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi